Ma posso dire una cosa, io l'altra sera ho provato una bellissima donna in camera mia, nella sala gioco, e ho incominciato con le mani, tasta tasta tocca tocca, ho messo la mano sotto la gonna, che? Un mio tentacolo? Le ho detto Rocco qualche scrupolo, per te sarà uno scrupolo, per me è un pezzo di... metto mai qualcosa contro i diversi? Io non c'ho niente contro i diversi figlia mia, ma tu sei tanto diversa, ha ragione mio nonno che dice che chi nasce è tondo, non può morire, cubo!